Gesù e Maria state per assistere amici carissimi a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione se possibile ovviamente al termine della visione mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo queste piccole operazioni non costano nulla ma possano essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale fatelo ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime quanto state per ascoltare Dio vi benedica e la Santa Vergine vi protegge Laudentur Iesus et Maria amici carissimi benvenuti a questa nuova puntata del ciclo di catechesi dedicata al mistero di Giuda giunta la ventinovesima puntata e quest'oggi vedremo un altro passaggio chiave narrato dai Vangeli il momento in cui Gesù elegge gli apostoli e rimanda a predicare chiaramente stante il soggetto della nostra meditazione vedremo in particolare la predicazione di Giuda e forse anche un secondo paragrafo dato che è un ultimo molto breve dove è intitolato un suo pensiero inespresso che Gesù interpreta che appena ha una paginetta per mettere un altro tassello ecco al quadro della nostra disamina un po' dolorosa ma necessaria che stiamo facendo della personalità di questo apostolo ovviamente analizzando questo possiamo anche ripercorrere alcuni tratti molto 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 belli dell'opera di Maria Valtorta sui Vangeli che è sempre un piacere ascoltare specialmente per gli insegnamenti dati da Gesù e anche per tutto il panorama ecco che emerge e che aiuta nella comprensione migliore anche dei dati evangelici contenuti nella rivelazione pubblica bene cominciamo a vedere il primo di questi due paragrafi la sua prima predica piace ma non molto si intitola così il preambolo dice queste parole i 12 discepoli diventano apostoli l'elezione apostolica avviene dopo una settimana di ritiro in orazione nelle gole di un luogo collinoso Gesù dà loro il mandato di predicarlo e li lascia andare restando a coltivare da solo un particolare campo di evangelizzazione si ricongiunge agli apostoli dopo alcuni giorni Gesù incontra per primo l'apostolo Filippo che pare messo di sentinella in quel posto come maestro tu qui ti attendevamo sulla via io sono qua ad attendere i compagni andati in cerca di latte presso dei pastori che pasturano su queste cime in basso alla via è Simone con Giuda di Simone e con loro sono Isacco e oh ecco venite venite è qui il maestro gli apostoli che stanno scendendo con fiaschette borracce si danno a correre e i più giovani arrivano naturalmente per primi la loro festa al maestro è commovente infine si sono riuniti e mentre Gesù sorride vogliono tutti parlare, raccontare ma ti aspettavamo sulla via avevamo pensato che non venissi neppure per oggi c'è tanta gente, sai oh ma eravamo molto impicciati perché ci sono scribi e persino dei discepoli di Camaliele ma sì signore ci hai lasciati proprio sul momento buono non ho mai avuto tanta paura come in quel momento non me lo fare più uno scherzo così eh Pietro si lamenta e Gesù sorride e chiede ma vi è accaduto del male? oh no anzi oh mio maestro ma non sai che Giovanni ha parlato? pareva che tu parlassi in lui io noi eravamo sbalorditi questo ragazzo che solo un anno fa era capace solo di gettare la rete oh Pietro è ancora ammirato e si scrolla il ridente Giovanni che tace guardate se pare possibile che questo fanciullo abbia detto con questa bocca ridente quelle parole pareva Salomone anche Simone ha parlato bene mio signore è stato proprio il capo dice Giovanni sfido io mi ha preso e messo lì ma dicono che ho parlato bene sarà io non so perché tra lo stupore per le parole di Giovanni e la paura di parlare in mezzo a tanti e di farti fare una brutta figura ero sbalordito di farmi fare a me lo stuzzica Gesù ma eri tu che parlavi e la brutta figura l'avresti fatta tu Simone un po' simpatico nostro signore oh per me ma a me non importava niente di me non volevo che ti schernissero come stolto per avere preso un ebete per tuo apostolo io mi sento di solidarizzare un po' con queste cose qui che purtroppo noi che rappresentiamo il signore abbiamo sempre un po' di timore di far fare brutta figura rappresentato cosa possibile speriamo solo possibile e non anche probabile Gesù sfavilla di gioia per l'umiltà e l'amore di Pietro ma non chiede che e gli altri anche lo zelote ha parlato bene ma lui si sa questo è stato la sorpresa ma già da quando siamo stati in orazione il ragazzo pare sempre con l'anima in cielo è vero è vero tutti confermano le parole di Pietro e poi continuano a narrare e sai fra i discepoli ora ci sono due che a detta di giuda di simone sono molto importanti giuda si dà molto da fare è già lui conosce molti di quelli in su e li sa trattare e gli piace parlare parla bene parla bene ma la gente preferisce sentire simone i tuoi fratelli e soprattutto questo ragazzo ieri un uomo mi ha detto parla bene quel giovane era di giuda che parlava ma preferisco te a lui oh poveretto preferite me che non so che dire quattro parole ma perché sei venuto qui il luogo di incontro era sulla via e là siamo stati perché sapevo che vi avrei trovati qui ora udite scendete e dite agli altri di venire anche discepoli noti e che la gente non venga per oggi voglio parlare a voi soli allora è meglio attendere a sera quando inizio il tramonto la gente si sparge per le borgate vicine e torno al mattino attendendo te se no chi li tiene va bene fate così vi attendo là sulla cima la notte è ormai mite possiamo dormire anche all'aperto dove vuoi maestro basta che tu sia con noi i discepoli vanno e Gesù riprende a salire fino alla cima si siede su un masso e si raccoglie in meditazione e così sta finché lo scalpiccio dei passi sul sentiero non lo fa avvertito che gli apostoli sono di ritorno la sera si fa vicina ma su quell'altura ancora il sole persiste traendo odore da ogni erba e fioretto gli mughetti selvaggi odorano forte e gli alti stelli dei narcisi scuotono le loro stelle i loro bocci come per chiamare le rugiate ecco dopodiché adesso comincerà a parlare Gesù facendo un bellissimo discorso prima di sentire la sua esortazione facciamo un po' una prima sosta per semplicemente stressare stressa l'inglese quindi evidenziare qualche passaggio e qualche particolare di quello che abbiamo già notato parlando di Giuda e Scariota abbiamo sentito era uno che parlava bene però addirittura un uomo ha detto a Pietro che si come dire si schernisce si blandisce abbastanza però sicuramente era uno di quelli che forse non era molto abile nell'arte della retorica però sicuramente e si vede nei suoi discorsi dalle sue semplici essenziali parole traspariva un grandissimo amore al Signore e anche una grandissima fede questo perché questa cosa è abbastanza nota in letteratura di un predicatore un predicatore poi era una grandissima eloquenza di di linguaggio ma non trasmettere non colpire non toccare anche San Paolo posso ritrovare il passo si definiva un profano nell'arte del parlare lo trovo al volo il passo perché tanto basta che trovo che metto sta parola chiave dice queste testuali parole si tratta della lettera della seconda lettera ai Corinzi quando San Paolo dice se infatti il primo venuto vi predica un Gesù diverso da quello che abbiamo predicato noi o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto o un altro vangelo che non avete ancora sentito voi siete ben disposti ad accettarlo dice San Paolo ora io ritengo di non essere in nulla inferiore a questi super apostoli e se anche sono un profano nell'arte del parlare non lo sono però nella dottrina come vi abbiamo dimostrato in tutto e per tutto e davanti a tutti si definisce un profano nell'arte del parlare sapete che c'è una tecnica del parlare che è la retorica che si può anche studiare quindi ci sono dei modi cioè ci sono dei sistemi per captare l'attenzione per variare il tono della voce sapere quando dire una cosa cioè ci sono io non ho mai studiato queste robe qui quindi tutto quello che si vede in me è tutto totalmente improvvisato da un punto di vista del proprio zero assoluto quindi non non ho nulla tanto per dire qualcosa però la cosa importante il complimento più bello che si può fare io è veramente più bello è guarda a prescindere da quello che dici si vede che in quello che dici ci credi perché questa è la cosa importante perché il predicatore deve essere uno che vive quello che predica certamente non è che Gesù stesso dice non dice testimonianza da un uomo non è che se un predicatore non vive quello che predica quello che predica è oggettivamente screditato no perché se predica la verità la verità rimane verità a prescindere dalla sua testimonianza però si perde in credibilità questo è un dato di fatto è vero fai quel che il prete dice ma non fare quel che il prete fa che era la traslazione del discorso che Gesù fece a proposito dei farisei applicato diciamo ai tempi moderni però è anche vero che è una cosa del genere non è molto edificante non giova non aiuta molto ecco San Giovanni era il più grande di tutti perché San Giovanni era l'innamorato era anche il il puro cioè il puro nel senso proprio il il vergine quando non ci sono diciamo contaminazioni di mondo inevitabilmente la qualità anche qui a prescindere dall'arte della retorica della predicazione sale perché un'altra cosa cioè vedete quando uno predica bisogna prima che uno si accorga se in quello che quello predica ci crede ma è ancora più grande accorgersi che quello che viene predicato è oggetto dell'amore del predicatore quindi non è soltanto che io ci credo no no ma che per me è la ragione stessa del mio essere questo è ancora perché Gesù rimanda due a due senza nulla gli apostoli perché attraverso questo segno che non è detto che si deve sempre riprodurre dovunque no e comunque però questo è un segno esterno che dice guarda che quello che io ti sto predicando è la mia vita perché io non c'ho niente al di fuori di questo e questo deve essere anche quando l'apostolo non è come un novello francescano della prima ora perché i francescani della prima ora sappiamo benissimo che hanno preso sulle orme di San Francesco ormai siamo molto prossimi alla sua festa sto Vangelo e l'hanno proprio applicato ad litteram come diceva San Francesco sine glossa segno molto importante segno molto forte segno molto eloquente ecco la cosa fondamentale è che questo traspaglia traspaglia anche quando come dire il segno esterno non è dato in questo modo così forte no? è così eloquente quindi nel predicatore conta la trasmissione di fede quindi la percezione di fede che offre quindi cioè questo ci crede in quello che dice ma anche l'amore questo Gesù lo ama questo la Madonna lo ama e non serve che vada a controllare la vita ma da come ne parla si capisce queste sono cose molto molto importanti perché ripeto anche se Gesù dice nel Vangelo io non ricevo testimonianza da un uomo nel senso che l'oggettività della verità prescinde dallo strumento utilizzato per trasmetterla è però influisce non poco non poco sulla accoglienza soggettiva da parte dell'ascoltatore del destinatario del messaggio che si manda ecco perché per essere un gran predicatore non ci vuole il dottorato in teologia d'accordo né la laurea in retorica o robe di questo genere né come dire certo uno deve sapere quello che dice San Paolo dice sono profano nell'arte del parlare ma non nella dottrina quindi nessuno si improvvisa oggi meno che mai perché quando uno parla deve sapere quello che dice deve sapere se quello che dice è la verità se quello che dice è conforme all'insegnamento della chiesa alla rivelazione alle testimonianze dei santi punto ecco molto importante è che si comprenda che la vita dell'apostolo è coinvolta sul duplice versante della fede e dell'amore in quello che predica e adesso sentiamo Gesù come chiosa questa prima esperienza apostolica con la sua esortazione Gesù si alza in piedi e saluta col suo la pace sia con voi sono molti discepoli che salgono con gli apostoli Isacco lì capitana con il suo sorriso da sceta sul volto sottile si affolano tutti intorno a Gesù che sta salutando particolarmente Giudea e Scariota e Simona lo zelote vi ho voluto tutti con me per stare qualche ora con voi soli e per parlare a voi soli ho qualcosa da dirvi per prepararvi sempre più alla missione prendiamo il cibo e poi parleremo e nel sonno l'anima continuerà ad assaporare la dottrina consumano la parca cena e poi si stringono a cerchio intorno a Gesù seduto su un pietrone sono un centinaio circa forse più fra discepoli e apostoli una corona di volti attenti che la fiamma di due fuochi rischiara bizzarramente Gesù parla piano gestendo pacato col viso che pare più bianco emergente come è dall'abito azzurro cupo e al raggio della luna novella che scende proprio dove è lui una piccola virgola di luna nel cielo una lama di luce che carezza il padrone del cielo e della terra vi ho voluti qui in disparte perché siete i miei amici vi ho chiamati dopo la prima prova fatta dai dodici per allargare il cerchio dei miei discepoli operanti e per udire da voi le prime reazioni dell'essere diretti da coloro che io do a voi come miei continuatori so che tutto è andato bene io sorreggevo con la preghiera le anime degli apostoli usciti dall'orazione con una forza nuova nella mente e nel cuore una forza che non viene da studio umano vedete ma da completo abbandono a Dio tanto per spiegare quello che sta dicendo prima di mandarli a predicare gli ha fatto fare il primo corso di esercizi spirituali ovviamente quindi che sarebbe stato come dire una concentrazione in luce in pochi giorni di quello che poi sarebbero diventati i seminari perché non si può andare a predicare non si può se non si è pieni di Dio quindi nonostante che loro vivessero con Gesù li ha portati in un posto isolato li ha mandati ciascuno nella sua grotta e adesso per un po' di giorni si mangia allo stretto indispensabile per non morire di fame perché a panza piena dice lo spirito non funziona molto bene e ci si immerge completamente in Dio io non dovete venire da me se non per circostanze del tutto eccezionali io comunque starò qui vi accompagno e prego per voi ma come stavano sempre con Gesù e gli ha fatto fare questa cosa gli ha fatto fare questa cosa pure stavano sempre con Gesù perché certo che attraverso Gesù stavano in contatto diretto con la Santissima Trinità però la dimensione della solitudine è comunque fondamentale anche la Santissima umanità di Gesù mi spiego era uno strumento di mediazione quando si sta in preghiera chi fa i testi spirituali questo lo sa tu stai in silenzio quindi comincia ad entrare in quello che è il mondo di Dio perché il mondo di Dio è il mondo del silenzio quindi è il parlare in maniera molto delicata non comprensibile da orecchie umane nella quiete dell'anima della coscienza quindi è una cosa del tutto peculiare tutti dovremmo imparare una cosa di questo genere è una cosa che si vive quotidianamente nello spazio di silenzio che ognuno dovrebbe riservarsi e annualmente nei giorni di esercizi spirituali ovviamente poi i contemplativi chiamati questa missione ne fanno come dire uno stile di vita praticamente perpetuo però questo è un fatto non sostituibile specialmente per chi ha il compito di predicare al prossimo se non sei pieno di Dio tu darai cose tue o cose umane credo che delle cose nostre o delle cose umane il mondo ne possa fare tranquillamente a meno ma di Dio no quindi una forza che non viene da studio umano ma da completo abbandono a Dio attenzione a quello che dice coloro che più hanno dato sono coloro che più si sono dimenticati questa frase è scritta in corsivo e Gesù spiega dimenticare se stessi è ardua cosa l'uomo è fatto di ricordi e quelli che più hanno voce sono i ricordi del proprio io anche qui io è scritto in corsivo bisogna distinguere fra l'io e l'io tutti e due corsivi via lo spirituale io dato all'anima che si ricorda di Dio e della sua origine da Dio e via l'io inferiore della carne che si ricorda di mille esigenze che tutto abbracciano di se stesse delle passioni e che poiché sono tante voci da fare un coro e che soverchiano se lo spirito non è ben robusto la voce solitaria dello spirito che ricorda la sua nombiltà di figlio di Dio perciò meno che per questo ricordo santo che bisognerebbe sempre più aizzare e tenere più e forte perciò per essere perfetti come discepoli bisogna sapere dimenticare se stessi in tutti i ricordi le esigenze le pavide riflessioni dell'io umano in questa prima prova fra i mie dodici coloro che hanno più dato sono coloro che più si sono dimenticati dimenticati non solo per il loro passato ma anche nella loro limitata personalità sono coloro che non si sono più ricordati di ciò che erano e si sono talmente fusi a Dio da non temere di nulla perché le sostenutezze di alcuni perché si sono ricordati i loro scrupoli abituali le loro abituali considerazioni le loro abituali prevenzioni perché le laconicità di altri perché si sono ricordati le loro incapacità dottrinali e hanno temuto di fare brutte figure o di farmele fare perché le vistose esibizioni di altri ancora perché questi si sono ricordati le loro abituali superbie il desiderio di mettersi in vista di essere applauditi di emergere di essere qualcosa infine perché l'improvviso svelarsi di altri in una rabbinica oratoria sicura persuasiva trionfale perché questi e questi soli così come quelli che fino ad allora umili e cercanti di passare inosservati e che al momento buono hanno saputo di colpo assumere la dignità di primato a loro conferita e non mai voluta esercitare per tema di troppo presumere chiaro che sta parlando di pietro hanno saputo ricordarsi di dio le prime tre categorie si sono ricordate dell'io inferiore l'altra la quarta dell'io superiore e non hanno temuto sentivano dio con sé dio in sé e non hanno temuto o santo ardimento che viene dall'essere con dio qui è chiaro che il signore molto vabbè c'è bisogno di lodare e di esaltare quello che fa lui perché ogni minima sillaba di nostro signore è evidentemente perfettissima e come dire che più perfetto non ci potrebbe essere ecco mi si perdoni che non trovo neanche io le parole per qualificarle la cosa importante è che manifesta un punto fondamentale cioè lo spirito con cui ci si accosta a un ministero così delicato allora il timore di fare brutta figura è un timore umano o anche di farla fare brutta figura oppure qui sicuramente c'è un riferimento 100% a Giude Scariota il desiderio di mettersi in vista di essere applaudito di emergere di essere qualcosa o qualcuno vedete i veri esami di coscienza sono quelli che vanno cioè perché tu stai facendo una cosa con quale spirito cos'è che ti muove oppure altri scrupolosi o prevenuti qui molto probabilmente fa riferimento molto probabilmente presumo a quelli nel gruppo apostolico penso per esempio a San Bartolomeo che era un pochino così che erano più ancora ancorati ancorati al vecchio ebraismo tanto è vero che San Bartolomeo quando viene chiamato ce lo dice San Giovanni ecco davvero un'israelita in cui non c'è falsità no quindi si capisce poi nell'opera che evidentemente era un discepolo di Gesù e lo amava e lo seguiva ma ha dovuto fare un percorso per come dire sfrondarsi di questi quindi questi erano prevenuti nel senso che se magari tra gli ascoltatori c'era un pagano per questi potrebbe essere un problema insomma cosa che non dovrebbe essere ecco il segreto però è essersi riempiti di Dio abbandonarsi nel Signore lasciare queste cose e avere come mira Signore mio che possa dare gloria a te e con il tuo aiuto concorrere alla salvezza di qualche anima se ti degni di usarmi a questo fine brutte figure chi se ne importa applausi ma chi se ne importa scrupoli o prevenzioni mettiamoli da parte chiaramente queste cose io capisco che sono questa sera un po' dirette agli addetti ai lavori quindi a coloro che hanno appunto questi compiti potrebbero sembrare non catecheticamente interessanti per tutti però la cosa importante che rimane semplicemente quando pensiamo o vogliamo fare qualcosa per il Signore è andarci sempre a interrogare sulle reali e profonde motivazioni perché guardate che è molto più importante di quanto si pensi faccio un esempio cioè io ho conosciuto visto nella mia esperienza sacerdotale si vede anche sia come come direttore spirituale come professore o anche come parroco non è che una persona che ne so per mesi per anni frequenta fa un cammino o si presume che lo faccia e poi quando uno va non ci stanno dei cambiamenti fondamentali ed essenziali quasi sempre la domanda è da calibrare sulle reali e profonde motivazioni guardate che non se le dice quasi nessuno non se le dice quasi nessuno specialmente quelle che il desiderio per esempio di essere qualcosa o qualcuno nelle parrocchie o anche nei rapporti con un ministro di dio questo è importantissimo questo è è una cosa che condiziona però questa viene sempre mascherata cioè io mi metto a fare servizi in parrocchia perché perché magari ho qualche frustrazione che non mi e lì invece trovo un posto dove in qualche modo posso sentirmi qualcosa posso sentirmi importante ma questo è sempre mascherato da ah no io sto facendo una cosa per il signore sto facendo per la parrocchia sto facendo per lui non è vero purtroppo non tutti quelli che stanno in parrocchia fanno così capite no ma alcuni sì e dall'esterno si vede benissimo il problema è che il diretto interessato non lo vede mai non solo ma se qualcuno si azzarda anche molto delicatamente cioè partendo non per la tangente ma per la super tangente quindi proprio da lontano da lontano a mandargli qualche piccolo input per dire magari riflettici no se non se ne accorge bene ma se poco poco lo sgama succede il finimondo troppo troppo figlioli miei cari questo è il cuore dell'uomo fino a quando siamo in questa valle di l'acqua per cui dobbiamo sempre stare vigilanti non solo sul cosa ma sul come sul perché e sul per chi e chiediamo sempre aiuto al signore la grazia dello spirito santo chiediamolo umilmente lo so che dentro il mio cuore difficilmente io accetterò prenderò coscienza però se c'è qualcosa che non va signore fammelo vedere illuminalmi se facciamo una preghiera umile di questo genere anche se dentro di noi ci sono le consuete proverbiali resistenze derivanti dalla nostra appunto natura umana decaduta e malata in qualche modo il signore una mano troverà il modo di darcela credo che possiamo leggere quest'altro paragrafetto breve prima di chiudere abbiamo ancora una decina di minuti in una mattinata il suo pensiero inespresso si intitola che Gesù interpreta in una mattinata splendida di unitore d'aria ancora più vivo del solito per cui pare che le lontananze si accorcino o che le cose siano viste attraverso una lente oculare che le rende nitide anche nei più piccoli particolari si prepara la folla ad ascoltare il maestro è il sesto discorso della montagna Gesù parla della libertà che ciascun uomo ha di scegliere tra il bene e il male tra Dio e Satana il discorso è quasi alla fine quando viene interrotto dall'arrivo vociante di quattro belli imbusti azzimati che portano quasi in trionfo madre di Magdala gran peccatrice ancora di cui magnificano la bellezza procace mentre manifestano di accontentare questa venere che vuole vedere il suo pollo Gesù il maestro si fa severo nel riprendere il discorso e la donna schernita dalla folla fugge Gesù fa alcune raccomandazioni agli apostoli e dispone che si debba andare via Iscariota è rimasto pensieroso pensieroso in un angolo Gesù lo chiama tre volte perché non sente infine si volge mi vuoi maestro chiede sì va tu pure a prendere il tuo cibo e ad aiutare i compagni non ho fame e neppure tu neppure io ma per opposti motivi sei turbato Giuda no maestro stanco ora andiamo sul lago e poi in Giudea Giuda e da tua madre te l'ho promesso Gesù Giuda si rianima vieni proprio con me solo ma certo voglimi bene Giuda io vorrei che il mio amore fosse in te al punto da preservarti da ogni male maestro sono buono non sono angelo ho attimi di stanchezza è peccato aver bisogno di dormire no risponde Gesù se tu dormi sul mio petto guarda la gente come è felice e come è lieto il paesaggio da qui però deve essere molto bella anche la Giudea in primavera bellissima maestro solo là sulle montagne che sono più alte di qui è più tardiva ma vi sono fiori bellissimi i pometi sono uno splendore il mio cura particolare della mamma è uno dei più belli e quando ella vi cammina con i colombi che le corono dietro per avere grano credi che hanno vista che plaga il cuore lo credo se mia madre non sarà troppo stanca mi piacerebbe portarla dalla tua si amerebbero perché sono due buone Giuda sedotto da questa idea torna sereno e dimenticandosi di non avere fame di essere stanco corre dai compagni ridendo allegro e alto com'è slaccia i nodi più alti senza fatica si mangia il suo pane e olive allegro come un fanciullo Giuse lo guarda con compassione e poi si avvia verso gli apostoli allora qual è il senso di questo di questo brano no? ecco qui era successo un problema abbastanza serio che abbiamo sentito nell'antefatto quindi brutte accuse a Maria di Magdala e a Gesù la venere che vorrebbe vedere il suo pollo il fango purtroppo della cattiveria degli esseri umani è senza confini cioè ce ne vuole per andare ad attaccare il nostro Signore Gesù Cristo in questo modo no? però purtroppo ripeto il fango del cuore umano specialmente quando è aizzato dalla cattiveria e dalla crudeltà satanica e gli spara anche evidentemente le porte a queste cose perché altrimenti ne sarebbe immune non ha confini ora qui c'è un suo pensiero inespresso che Gesù interpreta Iscariota è rimasto pensieroso in un angolo quindi sicuramente non aveva nel cuore buoni pensieri ma certamente turbamenti Gesù lo imbecca dicendogli sei turbato Giuda? chiedendogli no maestro sono stanco e qui vedete già un problema abbastanza serio perché dopo sono stanco Gesù cerca di come dire instaurare un rapporto empatico dice una cosa che Giuda farà sicuramente piacere guarda che andiamo sul lago e poi in Giudea Giuda è la tua madre te l'ho promesso ecco tutto gasato e vedete voglimi bene Giuda io vorrei che il mio amore possa in te al punto da preservarti da un animale altro input voglimi bene no? vedete qui Giuda dice qualcosa ma non dice maestro sono uomo ma non sono angelo ho attimi di stanchezza ecco qui però dice una cosa che non è quello il problema no? è peccato aver bisogno di dormire e anche lì Gesù dice no se dormi sul mio petto insomma Giuda non parla Giuda non parla quindi Gesù e guardate questo è un punto fondamentale questo qui non parlare con chi dobbiamo parlare anzitutto sapete con chi? con Gesù con Gesù quando noi entriamo in noi stessi se vediamo che ci sono delle cose che qualcosa ci turba ma ci pensiamo mai noi di prendere e di andarlo a dire a Gesù dirglielo quando nella nostra preghiera personale questo che ho detto è così importante una mezz'oretta al giorno di break glielo devi dire adesso non vorrei ricitare per l'ennesima volta per l'ennesima tantissime volte l'episodio di Gesù e di Santa Faustina magari lo faccio breve Gesù aveva detto a questa santa donna che non gli aveva dato ancora tutta se stessa questo è rimasto per un sacco di tempo a pensare insomma alla fine faccio breve tu non mi hai dato le tue miserie tu non mi parli dei tuoi problemi delle tue difficoltà e questa santa donna obietta quello che probabilmente penseremmo anche noi ma che c'è bisogno che c'è bisogno ti racconto i miei problemi le mie difficoltà ma tu sei Dio e già li conosci tutti e con questo Gesù risponde certo che sono Dio li conosco tutti conosco anche perfettamente tutte le tue miserie fu in quella circostanza che le disse ti dico anche che se tu conoscessi con i miei occhi l'abisso della tua miseria moriresti di dolore questo se vale per Santa Faustina figuriamoci per noi e ringraziamo il Signore che non ci fa vedere bene chi noi siamo come lui ci vede sui occhi se no calibro 38 subito però se tu non mi parli delle tue cose io non posso intervenire perché tu non me ne rendi partecipe tu non mi chiedi aiuto tu non me le dai ricordiamo sempre che Dio non fa niente senza il nostro libero arbitrio in questo paragrafetto apparentemente insignificante si manifesta un problema focale fondamentale del perché Giuda è rimasto quello che è rimasto perché lui con Gesù non ci parlava nonostante tutti gli inviti dolci affabili buoni perdendoci un sacco di tempo a tirare fuori il rospo tira fuori il rospo sputalo dillo chiamalo per nome c'è un mostro chiamalo per nome chiedi aiuto chiedi la guarigione se non succede niente non succede rimaniamo sempre uguali non è una buona terapia fare finta che i problemi non esistano o non volerli guardare questa è una pessima terapia cioè per lasciarli sempre lì così come sono anzi per lasciarli sempre lì è stato di peggioramento perpetuo perché i problemi non risolti non si risolvono mai da soli ma con il tempo si incancreniscono peggiorano quindi questo è un punto amici scusatemi è focale e fondamentale questo vale per tutti dobbiamo imparare a metterci davanti a Dio nudi non avere paura di guardare le nostre ferite le nostre piaghe e ostenderle al Signore guariscimi ma gridarlo questo qui chiedergli in intervento quello che possiamo fare noi aiutati alla sua grazia dobbiamo farlo noi ma su queste cose noi dobbiamo chiederlo a lui Giuda questo non lo ha fatto mai vi ricordate quando Gesù qualche puntata fa è chiudo entrò in disputa con i farisei lui dice ma no cerchi di entrarci anche con loro sull'empatico io lo so che poi c'è tanti pregiudizi dico facciamo ok ditemi una parola ditemi una parola maledizione diciamo fine è detto chiuso ditemi una parola noi diciamo sempre a Gesù di soltanto una parola io sarò salvato ma questo se lo potrebbe pure dire a noi nostro Signore dimmela una parola perché io ti possa salvare dimmela mi raccomando questa è una cosa molto importante per cui pregherei insomma di salvare il file e di rifletterci su parliamo a parlare con Dio di noi stessi di quello che non funziona di quello che non va di quello di cui ci vergogniamo di qualunque cosa di qualunque cosa dobbiamo parlarne come se lui non lo conoscesse lui conosce tutto ma perché ci venga da tirarlo fuori ecco così com'è impariamo a trattare in questo modo Gesù veramente come il nostro miglior amico con chi si parla delle cose no con l'amico ma gli amici umani possono essere soltanto se volentieri delle spalle che ci vedono a portare i pesi con cui ci sfoghiamo qualche volta qualche piccolo consiglio lo possono dare ma l'amico con la A maiuscola l'amico che c'è il potere veramente di tirarci in piedi di sollevarci dai nostri guai è il nostro Signore Gesù visto purché lo trattiamo come tale e parliamo con lui a 360 gradi di tutto certi che è una misura in cui gli affidiamo le nostre piaghe le nostre difficoltà pure i nostri peccati le nostre miserie lui interviene ci sana e ci guarisce Dio vi benedica la Santa Vergine sempre ipoteca amici laudento di Gesù et Maria Dio vi benedica